Ma nella vita che vorrei, nella vita che vorrei, libero sarei, nella vita che vorrei, per il mondo potrei farmi i fatti miei, ma purtroppo niente aperitivi in vista, o distretto l'estitista. Beh, restare a casa non è poi così male, no? Se tu segui il mio consiglio, andrà tutto per il meglio, e la situazione poi migliorerà. Quindi non mollare mai, restare a casa più che puoi, ed un giorno stringerai, tramite da quella vita che vorrei. Grazie per la visione! Grazie per la visione!